Marco Mazzeri, la Nazionale si sta preparando al Premier 12, prima edizione, periodo tipico per noi della stagione. Qualche problema a mettere assieme i migliori giocatori disponibili? Un po' più di qualche problema, per dire la verità, però crediamo che sia anche il momento di dare responsabilità a chi responsabilità dovrebbe iniziare a prendersele. Questi ragazzi che hanno fatto un percorso avranno un'occasione importante per mettersi in mostra e quindi diciamo che dal problema creiamo opportunità importanti e siamo così fiduciosi che comunque l'atmosfera all'interno del gruppo sia quello che ci trascinerà come ci ha trascinato in tutti gli eventi che abbiamo fatto finora. È un torneo che sarà naturalmente di livello molto alto, quindi la prima cosa importante è esserci, la seconda competere, ma con che possibilità? Con che possibilità te lo dico il 5 di novembre quando potremo sapere se disporremo di alcuni giocatori che sono molto importanti per noi, in quel caso le possibilità potrebbero aumentare, se no cercheremo di competere per quello che sarà il nostro roster in quel momento, ma ripeto comunque sia credo potrà essere un successo perché nel caso in cui questi giocatori importanti non possano partecipare daremo delle opportunità che per alcuni ragazzi giovani alla prima esperienza nazionale potrebbero essere per loro molto importanti. L'Italia è parte ovviamente importantissima della costruzione di una squadra europea che ha già giocato a Tocchio con la nazionale maggiore, ora partecipa a questa Winter League Asiatica, un'opportunità senza precedenti davvero per i migliori prospetti. Io credo questa sia una cosa eccezionale, già come lo era stata la formazione di quella All Star europea che a marzo è andata a giocare in Giappone e che ha fatto veramente molto bene. Questa utilizzata nel modo giusto credo possa essere così in qualche modo di grande sviluppo per il baseball a livello europeo perché questa squadra sarà, io spero e mi auguro che sarà seguita a livello europeo in modo molto importante da tutte le nazioni che hanno giocatori impegnati in questa manifestazione, che non ha precedenti che speriamo possa essere ripetuta nel futuro e che per questi giovani prospetti potrebbe essere anche in qualche modo motivo di interesse ulteriore nel baseball perché da lì potrebbero anche, se fanno bene, guadagnare un contratto importante nei paesi orientali. E per chiudere le Olimpiadi di Tokyo sono un po' lontane ovviamente ancora nel tempo però il fatto di tornare a parlare di baseball olimpico è un ulteriore stimolo? Guarda, parli con uno che sogna le Olimpiadi da quando era un bambino e che non ha mai avuto la fortuna o l'abilità forse per potervi partecipare. Quando il baseball era sport olimpico per vari motivi io non ero mai in nazionale e quindi per me questa è una vetrina importantissima, è un sogno che comunque avevo sin da bambino e che dovrebbero avere tutti i bambini che giocano a baseball.